L'espressione latina che il presidente della regione Luciano D'Alfonso ha usato per sintetizzare il cambiamento nell'Agenzia regionale informatica e telematica, l'ARIT, è emblematica. È un diessa quo. Un nuovo punto di partenza dunque rispetto al passato in una struttura che fino ad oggi, secondo il presidente che ha interrogato i dipendenti uno a uno, ha prodotto pochissimo in termini di lavoro e molto sotto il profilo dei debiti. Comincia una nuova stagione, una nuova fase di questa importante agenzia per la funzionalità regionale. Noi disponiamo di una infrastruttura informatica e digitale per fare in modo che intervenga la velocità, la comodità di funzionamento dell'economia e della società abruzzesi. Noi ci mettiamo tutto quello di cui disponiamo, energia, competenza e determinazione. Ha inserito un nuovo management, l'impressione che si è avuta è che sia, mi passi il termine, un commissariamento interno. Questa è l'inaugurazione della quarta fase della vita dell'ARIT e anche della società dell'informazione regionale, dove per informazione noi determiniamo il rapporto anche con la tecnologia e la velocità dell'informazione grazie alla tecnologia. Non esisterà più la finzione dell'informatica ma deve intervenire la funzione dell'informatica e del digitale. Nei cinque anni 129.000 imprese devono generare 100.000 nuove occasioni di lavoro. Se l'agenda digitale si insedia anche in Abruzzo determinando velocizzazioni, comodità, apertura e manifestazioni di anche occasioni di migliore dialogo tra il progetto di vita delle imprese, la pubblica amministrazione, tra le imprese ed altre imprese, l'internazionalizzazione delle imprese, tutto questo significa libertà economica, opportunità, modernizzazione. Questo significa anche nuova occasione di impiego di forza lavoro, di forza intellettuale. Proprio per questo è stato insegnato un nuovo management scelto personalmente dallo stesso D'Alfonso con un nuovo direttore generale, Andrea Grilli. Sì, si cambia registro nel senso che in linea con quella che è l'arrivo del presidente D'Alfonso con tutta la sua energia, la sua voglia di cambiare e di portare innovazione, anche l'ARIT seguirà questa onda positiva e quindi cambieremoci, innoveremo e porteremo l'infa vitale alla regione. Quello che è la sfida è portare qualcosa in più che è l'aspetto della parola innovazione, cioè portare nuove idee, creare un ambiente anche culturale delle tecnologie e della scienza che sviluppi nuove idee, quindi aiuti anche il territorio a crescere nel suo insieme, oltre a tutto quello che deve essere la semplificazione della pubblica amministrazione. Grazie. 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 Grazie.